Il treno per Chaiwan è in arrivo. Si prega di dare la precedenza ai passeggeri che scendono dalla metro. Vi ringraziamo molto per la collaborazione e vi auguriamo un piacevole viaggio a bordo dei nostri mezzi. Il treno per Chaiwan è in arrivo. Si prega di dare la precedenza ai passeggeri che scendono dalla metro. Che sta succedendo? C'è una bomba! Una bomba! C'è una bomba! Scappiamo! Johnny, è fuggito! Evacuate la stazione! Fermo! Di qua! Coraggio! Forza! Avanti! Fregatevi! Che succede? Non lo so. Il sospettato si dirige all'uscita A1. Preghiamo ai passeggeri di restare guardi. Il nostro staff vi indicherà le uscite più vicine. Indietro! Ragazzi, dovete andare! Che faremo! Mi pare. Allontanatevi! Allontanatevi! OSSON Grazie a tutti.